Contiamo intanto sullo sblocco a Italia, queste ore i ministri sono riuniti per preparare il testo che domani sarà portato al Consiglio dei Ministri, abbiamo condiviso come ANCI e come sindaci italiani la sollecitazione del Presidente del Consiglio, sbloccare tutto ciò che intanto è fermo ed è molto, o perché i finanziamenti erano inadeguati o perché pur avendo i finanziamenti in toppi burocratici hanno bloccato tante cose che sono state decise e che poi o non si sono realizzate o non sono state compiute, quindi sbloccare tutto ciò che può essere rimesso in movimento è fondamentale perché l'esperienza di questi anni dice che è importante mettere a posto i conti, noi lo stiamo facendo, dando continuità alle politiche anche dei governi precedenti, però non basta perché poi bisogna rimettere in moto la crescita e per rimettere in moto la crescita bisogna rimettere in moto un flusso di investimenti che consenta di mobilitare tecnologie, mobilitare capitali, creare lavoro, aprire cantieri e lo sforzo che in queste ore si fa è questo, naturalmente non può che essere uno sforzo sostenuto e apprezzato. E' una grande riforma quella che si è messa in campo perché nell'arco di poche settimane noi stiamo ridisegnando l'assetto istituzionale e costituzionale del Paese, l'assetto del Parlamento con la trasformazione del Senato nel Senato delle Autonomie, la nascita delle città metropolitane che dà forma istituzionale a un dato che c'è già perché le città metropolitane esistono già nella realtà come sappiamo e la trasformazione delle province in enti di secondo livello. C'è un filo che lega tutte queste tre riforme ed è il ruolo dei comuni perché le province di secondo grado saranno associazioni di comuni, tanto è vero che saranno dirette dall'Assemblea dei Sindaci. Le città metropolitane sono un'associazione più intensa dei comuni dell'area metropolitana e a guidarlo saranno ancora una volta un Consiglio metropolitano costituito di sindaci e di amministratori comunali. Il Parlamento si riforma con il Senato delle Autonomie che per la prima volta darà rappresentanza parlamentare agli enti locali, comuni compresi. Quindi direi che è un assetto nuovo che riconosce la centralità dei comuni che è poi il dato della realtà. Il 95% delle politiche che investono la vita dei cittadini passa per le schivanie dei sindaci. Mi pare evidente che si riconosca questa centralità dei comuni e dei sindaci.